Poi come stessi in strada, c'è un po' di... E' cacca, c'è un regalcio del cammino... Qui c'è troppo da scoprire. Hanno fatto prendarmi questo. E hanno iniziato a prendarmi. Non è una campagna. Non è meglio la pagina di tutti. Io non la pagina. Se vuoi, ci serve la pagina. Se vuoi, ci serve la pagina. Tutto la pagina. No. Però la pagina è fortissimo. Io comincio a finire il piazzo. Ma non è una piazza. C'è Carlea, c'è... Avarello, c'è... Come chiamano? San Lorenardo. San Lorenardo. San Lorenzo e chi l'ho passato ora. S'hanno fatto prendarmi nel cielo. Mi sento, andiamo a campare. Andiamo a fare cosa dobbiamo. La pagina di tutti. Ma la pagina di tutti. Ma la pagina di tutti. Andiamo a campare. Perché giù sta andando. Andiamo a campare. Un mezzo di paio non c'è. Andiamo a fare. C'è una buona sera. Andiamo a fare una macchina di presa. Eh... Ma se questo ha fatto un po' lo vedete a te. E questo è una cosa grave. E questo è una cosa grave. E questo è una cosa grave. E questo... Usavano tutto. Usavano tutto usato. Tutto usato. Lo usavano di soluzione. Lo usavano di soluzione. Mi chiamavano di soluzione. No, a fare poi succede il buon teatro. Il cazzo va a rimanare dentro. E... E manco che gli ha scontrati al figlio. Se l'impevano le so... Io lo avevo mettendo su un po' cavallo. Che venne arrivano usato tanto peggio. Che io vado a farlo. O poi che l'entrò a cavallo. E tutto è così. Che campavano, campavano tutto. Ma non mi rispettavo. Perché gli un po' ciò. A che negativo treggi ha smontato. E, ma non mi ha un paio qui. Ma perché è un po' po' bello. E questo, se vuoi farли parte. Ora... E io voglio che non abbiamo oggi attrò, E già inizimo con le sorze. No, non ho avuto più. E io rispettavo tutti. Ma prima che... Io, 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 io... Solo, tu mi chiamano le pace? Ok, so tu mi chiamano le mani? E come... Ma io... ...감ere il giorno di stava. Da parte mia... ...E così mi... ...e così mi chiamano il segno. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.